amore volevo vedere se devi attento alla guida si ma certo ma anche alla sfumatura devi essere attento alla mia sfumatura più che altro sempre una pennellata sbagliata ti ricordo che io sono svegliato alle tre e mezza di stamattina e tu mi dici sfumatura amore ma tu devi essere sempre pronto deve essere proprio una questione di unione di unione capito devi essere sempre pronto sull'attenti soprattutto quando ti dico muo ci andiamo a fare un giro certo però sull'attenti in realtà stai sull'attenti per esaudire i miei desideri non sono desideri quelli che mi esaudisci amore dove stiamo andando a farci una passeggiata ma dopo passiamo alla Lidl casa shop dai il cinesauro no allora che passeggiata è che mi vuoi abbandonare in mezzo alla strada amore pensavo che quando ti avevo detto andiamo a fare una passeggiata e tu mi hai detto di sì era un assenso a tutto no ti stai a sbagliare amore ma perché? devo guidarmi ma devo distrarmi ma come devi guidarmi ma devi rispondere io ti ho detto muo ci andiamo a fare una passeggiata io ti ho detto sì e io adesso ti dico muo andiamo dai cinesi da casa shop dalla Lidl ci andiamo allora andiamo in giro non mi interessa fare una passeggiata così non è fruttuosa no ma cazzo e dai no c'è ieri cosa c'è con cosa? c'è 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 no ma adesso ci andiamo va bene io ti ho visto non è vero non ero io non l'hai visto ma non vale è che allora sti giorni ha fatto sempre freddo giusto mo? adesso l'aria si è riscaldata un pochino e allora andaccia a fare una passeggiata come due vecchi innamorati gusta tu guardi là dentro dentro i negozi invece mano nella mano ci facciamo vedere ci facciamo vedere dalle persone che c'ha mia ma perché hai tirato su col naso? non mi pensi che ha col naso tu mi racconti frottole tu mi racconti frottole tu non me ami e dici alle persone che me ami per fare bella figura ma non sono queste le dimostrazioni d'amore le dimostrazioni d'amore sono c'è ancora per molto? ma a me mancava una parola ma se te stavi zitto finivo questo discorso cosmico e poi chiudevamo mo eh ti dicevo il cosmo è immenso il cosmo è immenso si se tu dici che me ami come dici che me ami devi anche andare a subì quando io ti dico capito mo? c'è questo si va bene intanto siamo arrivati si dopo vi faccio vedere se trovo oh madonna sto sole mi ha ciecato se ero una vampira ero morta ma non lo so non sono un angeletto un condor muore vabbè ciao amore guarda che bello guarda che meraviglia questo è capità chissà se si vede lo stemmetto dove sta non c'è vabbè questo è un negozio che si chiama capità guardate che meraviglia no vabbè le tazzine un attimo mo il bollitore chissà se si vede no vabbè queste sono cose che a me mi fanno morire eh oh che bello no no la nutella la nutelluna ma che rossa verde no ma è bellissimo questo è per fare crepe capito perché te l'ha messa lì che belle ste cose fammi vedere qua che c'è oh guarda che bello ma questo è un portaricette Michi questo è un portaricette guarda come è fatto bene come schedario si portaricette wow che belle queste sono belle poi qui che c'è eh vedi capità tutto mondo casa no vabbè ma questo è stupendi i biscotti ecco a me piacciono quelli là mo Zenzi mi piacciono tantissimo mi piace anche la fonduta ecco vedi questo per il panettone che se compra le cartine mo invece con questo va benissimo no vabbè quello lì per fare tutto l'alberello bellissimo e poi basta e poi ce ne andiamo qua sto a porto dei canati siamo a porto dei canati amore andiamo amore non mi fai urlare amore ora andiamo che dobbiamo andare in un negozio amore dillo che è un altro orario eh? è un altro orario ci credo che è passato due ore non si è fatto buio non lo so abbiamo fatto un sacco di cire abbiamo fatto i fidanzatini abbiamo fatto i fidanzatini ma siamo solo noi due siamo andati a mangiarci lo so vabbè non si può Erika ma si può si può no non si può allora abbiamo preso due cappucci e due paste madonna mia poi abbiamo preso la pasta per Giulia la crema chantilly yeah 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 così dopo quando torna oggi da scuola adesso andiamo a prenderla fa merenda abbiamo fatto dei regali no no sei impazzito non si può di niente è muto 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 allora siamo andati alla Lidl non c'era niente c'era solo da spende è buono e quindi abbiamo detto vabbè non ci regalano niente non ci possiamo andare poi siamo andati da casa shop non ci aveva niente e quindi abbiamo detto no sai cos'è andiamocene proprio siamo andati a finire da tutt'altra parte e non si può di niente si può di niente si può di niente però ci è piaciuta sta cosa vero amore insieme io e te amore tanto l'hanno capito pure loro che mi ami a rate questa cosa ti è scappata sta cosa amore perché a volte dici che mi ami a volte invece sbuffi e guardi il cielo non ho sbuffato non ho guardato il cielo faccio a te sbagli me lo volevo senti dire altra volta che cosa? che mi ami che mi ami? apposta non ha capito niente adesso andiamo a prendere Giulia amore stasera si mangia all'avanzi eh dei ieri perché io non c'ho intenzione di cucinare meri bello meri bello voglio stare libera e felice no devo non è così che viene trattata una signora ah non ti devo proprio avvertire lo fa e basta avete incominciato a fare regali scrivetemelo sotto nell'info box no nell'info box ci scrivo io voi non ci potete scrivere sotto nei commenti di che cosa avete no che cosa avete fatto non ci provate che non si dice sta cosa perché sennò che sorpresa è mi sei anche usato un braccio e qua mi si vede la mano mo dobbiamo comprare quelli da auto amore dobbiamo comprare quelli da mamma mia amore dobbiamo comprare il supporto capito non sono morto il supporto mi fa male in braccia sta così a me allora me lo dite se avete incominciato a fare i regali che io so allora voi dovete sapere la cosa che io so curiosissima e e tu ma si ma se non ci vorrei mai credere amore un po' eh cioè io mi sento male io mi sento voi pensate io ci scherzo ma io mi sento male davvero io ho un cuore che va mille cioè io spaccherai tutto io disconoscere disconoscere disconoscerei disconoscerei tutto e tutti per aprire i regali ma scherzo tu è un italiano così eh si amore guarda ti dico pure questo ci ho studiato tanti anni no perché no è così sì è così ho capito io lo so che è così cosa è così ma donna si stava ammazzare questo mentre correva amiche mi dovevo pure fermare e testimoniare ma hai visto che camminava e sei inciampato su se stesso oddio che dosso ha preso un colpo e tu hai visto tutta sta cosa su uno che correva qui a fianco sì sì oh perché io guardavo avanti ma tu guardi il futuro ma dove stiamo andando mica te voglio pure figlia da scuola ma Anna mica è aperta alle 4 por anima di Dio Anna apre intorno alle 4 e mezza non apre adesso poverina chi gliela dà sto poraggia sta poraggia chiudiamoci dentro perché ci sta certe facce che insomma fanno paura fanno veramente molta paura no no è proprio chiusa Anna sì sì Anna non apre adesso quindi facciamo in tempo a fa niente ecco dobbiamo semplicemente aggiustare meglio il portapagagli perché tante cose sono nel portapagagli e se Giulia apre non va bene non si sa mai nella foca un attimino di disattenzione ci sbagliamo e apre il portapagagli finite soldi finite amore finite sorpresa eh questo è capito vabbè e quindi adesso andiamo parcheggiamo sì sono contenta no dopo andiamo direttamente da Annetta mia che gli adaco tanti bazzetti oggi perché devo prendere quello che mi manca sì vabbè qua è tutto qui perché noi siamo persone che insomma di una certa elevatura di una certa stazza capito soprattutto io vi mando un bacio io sempre bacio a tutti qui Grazie.